Qual è la sua posizione nei confronti di uno spettro di crisi di governo? Ma io non penso ci sia crisi di governo. Buffani parla della poco certificata. Oggi siamo qua per parlare di Villaggio Rousseau e di un nuovo modo di condividere nuove esperienze da parte di tutti gli attivisti e secondo me è un bel evento di partecipazione come ce ne sono stati tanti del Movimento 5 Stelle. Però il governo è vero che soffre Roma sul stato italiano. So che voi avete questo focus. Oggi siamo qua per parlare di Villaggio Rousseau e di questo vorrei parlare.